Ciao ragazzi e ciao ragazze, bentornati nel mio canale YouTube, in questa rubrica vi porto a tu per tu con alcuni dei personaggi, dei piloti che hanno fatto parte e hanno scritto questa storia straordinaria della Formula 1. Faccio prima una parentesi, prima di partire con il video, perché ovviamente siamo in un periodo storico particolare, sta per partire la stagione 2022 di Formula 1 con i nuovi regolamenti, quindi qui su YouTube vedrete un mix d'ora in poi tra video del passato e video del presente e comunque stiamo, diciamo, affrontando insieme queste presentazioni delle monopost su tutti i miei social, quindi vi lascio qui sempre i miei social, vi potete trovare ovunque con il nome Formula 1 with Carolina. Chiusa questa parentesi, io direi di partire, torniamo al passato, perché oggi vi parlo di una persona, non mi piace chiamare un personaggio, parliamo di una persona, ed è Eugenio Castellotti e la sua storia per me è stata molto affascinante, perché ci sono delle zone d'ombra, delle zone oscure, è una personalità molto particolare che ha dovuto far affronte a delle difficoltà nella vita privata e che poi si sono catapultate nella vita lavorativa, in quella che era la sua passione nella Formula 1. Eugenio era una persona molto amata, al contempo stesso dei conflitti interni, diciamo un tormento infinito e che lo ha portato fino all'ultimo giorno, il giorno della sua morte. Ho diviso questo video in cinque punti, che sono i punti, secondo me, chiave della sua esistenza. Il numero uno sono le radici, perché quando si analizza in generale una persona, secondo me bisogna partire dal suo background, dove è nato, dove è cresciuto, che famiglia aveva. Bene, Eugenio aveva un padre, il dottor Castellotti, molto facoltoso, ragazzi, era molto molto nobile, ricco, era un avvocato proprietario terriere, aveva diverse zianne agricole, quindi aveva questo, insomma, stava molto bene a livello economico. Dall'altra parte, invece, c'era la mamma, che aveva un background completamente differente, era una donna semplice, arrivava dalla campagna e lavorava all'interno della casa come cameriera del dottor Castellotti. A 16 anni rimase incinta, perché i due ebbero questa relazione clandestina sotto banco e nacque da questo amore, diciamo, Eugenio. Eugenio che fino ai 9 anni non venne riconosciuto dal padre, ai 9 anni appunto venne riconosciuto e il padre era un uomo molto severo, molto freddo, non voleva che il figlio corresse in macchina, sperava in lui, lo vedeva in un'altra carriera, diciamo, e quando Eugenio compì 18 anni, sì, la maggior età, perse il padre e da un momento all'altro, la sua vita non è che cambiò radicalmente, però da che era un uomo ragazzo, diciamo, dalla campagna, da una vita molto semplice, si ritrova ad avere in mano un'eredità infinita del padre ed è praticamente, diciamo, milionario. Inizia a correre, perché ora, diciamo, il via libera prima correva anche lì senza farsi vedere dal padre, ora il padre non c'è più e può inseguire i suoi sogni. Compra subito una Ferrari, così, proprio per togliersi il dente, compra una Ferrari e inizia la sua avventura nel mondo delle corse. La madre è una figura molto importante per Eugenio, lo capirete poi all'interno del video. Amava, ovviamente era il figlio unico, quindi lo amava alla follia. Un amore che andava forse oltre. Il limite lo vedrete e lo sentirete dalle mie parole e tutto girava intorno a Eugenio, perché era suo unico figlio, la sua unica ragione di vita, il suo punto di riferimento. Eugenio è nato a Lodi ed è cresciuto a Lodi. Lodi, tutte le ragazze impazzivano per lui, tutti lo amavano, perché era considerato un po', dai, un playboy, un bel ragazzo facoltoso che correva, quindi aveva tutto questo, diciamo, identikit molto particolare, che lo rendeva una persona curiosa sicuramente agli occhi degli altri, ma era, diciamo, aveva questa facciata, si mostrava sempre molto sicuro di sé, in realtà era una persona molto sensibile e fragile sotto sotto. Andiamo al secondo segmento, Formula 1, amici, nemici e maestri. La Formula 1 del tempo era molto diversa, cioè la stagione era composta da 6, 7, 8 gran premi, ora ne abbiamo 23, quindi c'è stato un cambiamento netto, diciamo, e i piloti, tra un gran premi e l'altro, si tenevano comunque impegnati in allenamento, da un punto di vista fisico, per avere chilometri sulle spalle, esperienza, nelle gare di durata, ad esempio la Mille Miglia. Eugenio correrà in Formula 1 dal 1955 con Lancia, poi nel 1956 e nel 1957 con Ferrari. Tra l'altro il 1956 è stato per eccellenza l'anno migliore di tutti i tempi per Eugenio, perché vinse la Mille Miglia, quindi un grandissimo riconoscimento, grandissimo premio diciamo, e lo stesso anno vinse anche la 12 ore di Sablin con un grande, grandissimo compagno di squadra che era Fangio. In pista era un uomo, Eugenio, decisamente coraggioso, cioè lui voleva semplicemente andare forte, veloce e basta. Questo poi si sfociava in tanti incidenti, magari rotture delle macchine, del monoposto, e non era di certo ecco un calcolatore freddo seriale quasi. Lui andava semplicemente distinto. E c'è anche da dire che non conosceva bene le macchine, soprattutto all'epoca, se penso a Fangio, i piloti dovevano essere un po' one man show, many tutto fare, multitasking, chiamateli un po' come volete, cioè dovevano essere veloci sicuramente in pista, però avere anche quella sensibilità nel riconoscere la macchina, dei problemi della macchina per poi dare le giuste indicazioni ai meccanici. Se pensiamo a Fangio, ma penso anche a Jack Brahman nel 59, che diventerà poi costruttore più avanti. Quindi queste skills, ecco, diciamo che Eugenio non le aveva nel curriculum. Era una formula 1 diversa, ve l'ho raccontato, e anche il clima che c'era nel pad, che era molto differente rispetto a quello oggi. Immaginatevi, cioè io me l'immagino così, un po' anche dalle immagini, dai video che vedo su internet, che ho ritrovato un grande gruppo di amici, alcuni quasi fratelli, dalle relazioni molto strette connesse che avevano, e un gruppo d'avventura, perché soprattutto all'epoca purtroppo erano ragazzi, chi più o meno giovane o anziano, diciamo così, che dovevano interfacciarsi sempre, costantemente con la morte, con la morte di un compagno, di un amico, quasi di un fratello, ed erano davvero insieme in questa avventura, che era l'avventura della Formula 1. E Eugenio ebbe tre figure importanti, secondo me, ognuna diversa dall'altra. Il primo era sicuramente Ascari. Dove cercavi uno, trovavi l'altro, quindi erano davvero pappeciccia, ed era il suo grande maestro, consideriamolo così. Soprattutto se pensiamo al 1955, al 26 maggio, a Monza, quando Ascari perse la vita, ecco, fu proprio Eugenio a dare ad Ascari tutta l'equipaggiatura e le attrezzature, dagli occhialini al casco. Sapete che Ascari era uno, o se non lo sapete ve lo ricordo io, era molto superstizioso, cioè lui non correva mai senza il suo abbigliamento in toto da casco, occhialini, giubbottino, eccetera. Ok, in quel caso però lui era andato lì per salutare la vecchia compagnia della Ferrari, lui aveva vinto appunto i titoli con la rossa e non doveva correre. Però loro stavano provando la Ferrari, le vetture Sport a Monza e quindi giustamente un feedback di un due volte campione del mondo era molto interessante. Quindi scese in pista e chiese l'equipaggiamento, l'abbigliamento a Eugenio, che rimase un po' tipo, ehi ma tu non corri mai senza le tue cose. Vabbè, scese e purtroppo Ascari perse la vita, come sapete, in quel giorno, che era un giovedì, ricordatevi il giovedì perché poi lo ritroverete nel corso del video. E la cosa che scioccò Eugenio, a parte che perse un fratello e un amico, ma lui si ricordò, diciamo, il corpo di Ascari per terra col suo casco e dalla scena, dal dolore, vomitò. Quello lo colpì notevolmente e si iniziò a fare, sai, le domande che si facevano tutti, cioè ha senso correre, ha tutto senso quello che faccio, non lo so. Poi vai avanti perché lui disse, io corro anche per lui ora. Ascari è dentro di me, se devo vincere, vinco per lui. Un'altra figura super importante per Eugenio fu il grande Fangio. E Fangio, tra l'altro, l'ho scesa, ad esempio, nella 12 ore di Sebbene, come suo compagno per le gare di durata. Erano davvero molto affini entrambi. Poi corsero insieme in Ferrari nel 1956 e ci furono diversi, diciamo, diverse situazioni. Se penso al Gran Premio Club di Francia, a Reims, quando Eugenio Castellotti dovette fare lo switch per ordini di scuderia con Peter Collins, è scesa dalla macchina, no, basta, io non voglio correre più con Ferrari. E si lamentò con Fangio e Fangio gli dice, beh, se smetti tu di correre, smetto anche io. Poi Fangio no, l'ho smesso di correre per questo, però questo vi fa capire davvero il rapporto molto stretto che c'era tra i due. Poi, ad esempio, nello stesso anno al Gran Premio di Monza, Fangio gli bastava una partenza normale, partiva terzo o quarto, non aveva bisogno di vincere, però doveva fare una gara pulita per portare a casa il titolo. E là davanti c'erano Musso, ricordatevi Musso perché adesso ne parleremo, e ovviamente Eugenio chiese ai due ragazzi, ragazzi, fate una partenza easy perché così mi porta a casa, insomma, le mie cose. Musso disse di no, mentre Eugenio assolutamente partì in maniera molto pulita per non creare problemi a Fangio. Ecco, poi arriviamo a Luigi Musso, che era un po' il suo alter ego. Qui c'era della bagarre. Perché c'era della bagarre? Perché loro rappresentavano, entrambi i piloti italiani, il dopo Ascari. L'Italia aveva avuto questa grandissima figura che era Ascari, Ascari Morin nel 55, e loro due erano i due piloti di punta, quindi volevano primeggiare l'uno sull'altro. E tutti e due avevano avuto questo esplode meraviglioso nel 1953, però erano nettamente due figure diverse, sia in pista che fuori. Perché Musso in pista era molto tecnico, molto calcolatore, quasi chirurgico nei suoi interventi, e poi fuori una persona molto alla mano, si parlava con tutti, molto aperta e disponibile. Mentre Eugenio in pista era aggressivo, quasi violento, cioè proprio partiva d'istinto, mentre fuori era uno molto introverso. Quindi due figure davvero molto, 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 molto differenti. Arriviamo al terzo punto, superstizioni e vizi. Sapete che tutti gli atleti, tutti i piloti hanno un po' delle credenze, delle superstizioni, dei passaggi da fare prima di entrare in gara o scendere in campo, insomma, le proprie fisse. Ci stanno, funzionano. In tutto ciò uno dei più superstiziosi dei tempi degli anni 50 era sicuramente Ascari, ma ne parleremo in un video a parte. Tornando invece a Eugenio, per quanto riguarda le superstizioni, lui il giorno prima della gara dormiva, cioè la sera prima della gara, dormiva accesa, non voleva assolutamente condividere il letto con delle donne, perché secondo lui, insomma, fare qualcosa con le donne la sera prima della gara gli toglieva quella tensione necessaria per la concentrazione il giorno dopo. Era uno di quelli che, prima di partire in grilla di partenza, entrava nella macchina, si chiudeva in sé, chiudeva gli occhi e si concentrava, per quello che poi sarebbe dovuto accadere in pista. Si infilava prima la scarpa destra, poi la scarpa sinistra e nella macchina con la quale correva nel cruscotto aveva questa medaglietta, diciamo, che gli era stata questa targhetta, che gli era stata data dalla sua città, da Lodi, per la vittoria delle Migli Emilia. Per quanto riguarda i vizi, invece, lui amava la follia alle donne, giustamente, si divertiva e faceva bene, era giovane, e dall'altra parte invece aveva il vizio di giocare a carte. Perse molti soldi con questo vizio, quindi ha deciso a un certo punto di chiudere completamente. Quando lui girava il mondo per la Formula 1, magari intorno a lui, insomma, giocava a carte, lui si distaccava, se ne andava completamente da un'altra parte per non ricardere in quel loop infinito, apriva un libro, amava leggere i gialli, si buttava direttamente a leggere questi libri. Tra l'altro all'epoca si diceva, diciamo, che i piloti non dovessero leggere i libri perché i libri in un qualche modo, quando li leggi, ti entrano nella testa delle informazioni, il pilota doveva avere la mente assolutamente libera quando correva. Eugenio era un amante dei libri gialli. Arriviamo al quarto punto, forse quello più importante per la vita di Castellotti, l'amore. L'amore che rende l'uomo fragile, vulnerabile, ma allo stesso tempo vivo e lo catapulta quasi in un'altra dimensione. Ecco, per lui forse l'amore sarà l'arma letale, quella definitiva per la sua vita e per la sua carriera. Per anni lui si era sempre divertito con le donne, ve l'ho detto prima, non si era mai innamorato, cioè lui era follemente innamorato della madre, erano davvero quasi in simbiosi, un amore morboso, insomma, comunque molto molto stretti, per la perità del padre, col fatto che era cresciuto con lei, insomma, davvero strettissimi. E l'unica cosa importante della sua vita erano le macchine e la madre. Con queste donne lui semplicemente si divertiva. Tutto cambierà, grazie o a causa, me lo direte voi a fine del video, perché io non voglio sentenziare niente, voglio lasciare molto questo finale aperto, ognuno poi avrà i propri pensieri. e le proprie opinioni. Però si innamorerà perdutamente per un colpo di fulmine di questa ragazza, di Delia. Delia era una subretta, era un'attrice, una donna dello spettacolo e per la prima volta Delia non lo calcolava di striscio. Praticamente si incontrarono nel 1956 in questa cena con 30 persone. Lui subito la vide immediatamente, già perso, sapete, quando colpo di fulmine. Lei non lo calcolò di striscio. Questa cosa gli rimase qui, perché lui era abituato a queste donne che si postravano ai piedi, cioè proprio lo amavano alla follia, perché era un uomo famoso, importante, ricco, era sempre sui giornali, insomma, una personalità forte. E quindi il fatto che Delia fosse diversa lo conquistò completamente, questo suo aspetto. e si innamorò, si innamorarono perdutamente entrambi. Lui la conquistò riempiendo il suo camerino, essendo le nottrice, riempiendo il suo camerino di rose. Si innamorarono e la vita di Eugenio cambiò completamente. Lui era cotto marzo, praticamente, di lei, giustamente, ed era quasi dipendente da questa ragazza. Diciamo che sta vivendo una favola e subentra la madre. Ora, la figura della mamma, ve l'ho detto, è una figura molto particolare. Sicuramente il suo modo di approcciarsi di pensiero era dettato da un tipo di vita che lei aveva vissuto per anni, dettato da la morale di un tempo. Però la madre odiava Delia, perché aveva innanzitutto un matrimonio alle spalle, questo non le piaceva, e poi era una donna dello spettacolo, cioè per il figlio voleva qualcosa d'altro. E soprattutto pensava che Delia sfruttasse il figlio per la fama, per essere su gossip, nei giornali, insomma, per far conoscere ancora di più il suo nome. E quindi c'erano queste due fazioni. Delia da una parte e la madre dall'altra. E Eugenio si trovava praticamente in mezzo. Ci fu questa litigata bestiale tra Eugenio e la madre, perché Eugenio portò Delia a Lodi per presentarla alla madre. La madre non la calcolò di striscio, anzi disse al figlio, o scegli lei o scegli me. Litigata paurosa, lui uscì poi prendendo tutte le sue cose, andò a vivere nell'hotel con Delia. Però quello fu importante perché fu l'ultimo momento che Angela, la madre di Eugenio, vide il figlio vivo. Quindi voi immaginatevi poi nel post, dopo tutto quello che vi racconterò, i sensi di colpa, il rammarico, la sofferenza. Tra l'altro in tutto ciò anche Enzo Ferrari. Enzo Ferrari e Eugenio avevano un rapporto quasi padre figlio. Enzo Ferrari non amava molto questa relazione di Eugenio con Delia per il semplice motivo che vedeva un Eugenio molto distratto. Sai quando sei innamorato, insomma sei un po' tra le nuvole, ok? Eugenio era così e ovviamente in pista bisognava però portare i risultati. E invece Delia diceva che Eugenio era follemente innamorato di Enzo Ferrari, cioè lo guardava con questi occhi innamorati e versi. E noi possiamo dire Delia è normale perché tu davanti avevi il Drake, cioè non te ne rendevi conto, ma avrai l'uomo che scriverà la storia della Formula 1. Comunque chiusa parentesi. Tra l'altro aspetto molto importante era la coppia del tempo Delia e Eugenio e tra di loro c'era un po' questa voglia di fare, di sposarsi. Si erano detti, Eugenio aveva detto a lei tu smetti di recitare e lei gli aveva detto tu smetti di correre. Quindi sapete quegli amori folli però c'è qualcosa che non andava perché come puoi chiedere alla tua altra metà di non fare un mestiere che poi era la loro passione e come togliere all'anima la sua essenza. C'era qualcosa che non andava. Arriviamo al quinto punto, la fine di tutto, la fine di questa storia, l'inquietudine. Era giovedì 14 marzo del 1957. La sera prima, quindi la sera del 13 marzo, Eugenio era con Delia, che aveva appena finito di fare uno spettacolo, presero questo taxi numero 13 e vi dico tutte queste cose perché Eugenio era una persona molto superstiziosa tipo stile Ascari e per farvi capire quanto era in questo loop della relazione non si rese neanche conto di tutti questi piccoli dettagli. E il problema tra di loro diciamo era che lei essendo un'attrice viveva la vita serale giustamente perché aveva gli spettacoli, dopo gli spettacoli andavano al pub, andavano a bere, mentre lui essendo pilota viveva di giorno quindi c'era questa incongruenza incongruenza di orari, di vite e lui per per star dietro alla vita di lei aveva perso la sua vita. Andavano a letto alle 4 del mattino e poi lui dopo 4 ore alle 8 si svegliava perché doveva andare direttamente a Modena a fare i test in pista con Enzo Ferrari e tutta la Ferrari stessa. Quindi questo vi fa capire un po' il tutto. Tant'è che proprio il 14 marzo lui si alzò, dopo aver dormito 4 ore, si alzò e andò a Modena per questi test. I meccanici lo trovarono stanco, molto stanco, giustamente aveva dormito poco. Il problema è che la stanchezza, in formula 1 adesso ma come all'epoca soprattutto perché all'epoca non c'era niente dal punto di vista della sicurezza, si traduceva poi in cosa? In errori, distrazioni, il corpo che non regge dal punto di vista fisico e quindi incidenti e quindi problemi e quindi anche cose molto gravi. E poi l'avevano notato un po' con questa testa piena di pensieri. Sapete quando una persona un po' diciamo circondata da questo alone nero di pensieri, quando vedi che non è tranquillo. L'avevano notato davvero non tranquillo perché aveva questo grande problema con la madre, con Delia, si voleva sposare, sapeva che doveva ritirarsi dalle corse, doveva parlarne con Enzo. Insomma, c'erano tante cose che lo bloccavano, che lo turbavano. Enzo ancora non c'era. Lui scende in pista, poi fa un giro, non idealissimo però fa un giro e torna insomma lì dai box diciamo e vede Enzo, Enzo Ferrari appunto, che sotto al braccio aveva questo articolo della Gazzetta dello Sport. Parentesi, Enzo Ferrari non faceva mai niente per caso e erano tutti i messaggi che lui lanciava così punzecchiate per dirti qualcosa indirettamente. Tant'è che erano lì, Enzo Ferrari voleva semplicemente tirare fuori il record della pista. C'erano due piloti, Vera che era rivale di Eugenio Castellotti e di Eugenio. Chi farà il record non mi importa, dovete fare il record della pista, quindi dovete andare più veloci che potete. Per la prima volta Eugenio entrerà in macchina contro voglia e questo è un fattore molto importante perché Eugenio ha speso tutta la sua vita, la sua più grande passione, il suo punto di riferimento oltre alla madre, sono sempre state le macchine, le corse, le corse di durata, di lunghi chilometri che fosse la 1000 miliam o anche le formule minori, la formula 1, cioè la sua vita è sempre stata fatta di velocità. Non provava più piacere, non voleva entrare in macchina e quelli sono segnali che c'è qualcosa che non va. E per la prima volta si accorse del fatto che lui stava correndo col casco, con gli occhiali, col giubbottino che aveva dato ad Ascari il giorno in cui morì. Il tracciato a Modena era un tracciato normale, cioè non è che fosse quei tracciati super difficoltosi o con un'estrema difficoltà, però era un tracciato nel quale dovevi stare attento perché ovunque in formula 1 e quando si parla di motorsport l'errore sta dietro l'angolo e i problemi ci sono. Lui scese in pista e andò sempre più veloce, sempre più veloce, però era una velocità malsana, non coerente, che non aveva senso. Perché vi dico questo? Perché lui era stanco, molto stanco e quindi cosa diceva? Si imponeva sul suo corpo, diceva la sua mente tipo mente ti devi concentrare, quindi cercava di combattere la stanchezza. Il problema è che quando tu scendi in pista, e questo lo dicevano i suoi meccanici, ma lo dicono anche tutti, devi guidare con l'istinto, non puoi guidare con la testa, devi lasciarti andare alla macchina e vai. Quando inizi a pensare troppo, a magheggiare, iniziano ad esserci problemi, le difficoltà. Tant'è che lui alla S, nel tracciato, perse il controllo della macchina e morì. Venne completamente catapultato fuori dalla monoposto, all'epoca non c'erano le cinture di sicurezza e quando i meccanici andarono a vedere cosa era successo, cosa fosse successo, lo trovarono sdraiato, aveva battuto anche la testa, una morte violenta diciamo, lo trovarono con una scarpa e basta, indossata e l'altra incastrata nella macchina. Perché vi dico questo dettaglio? Perché all'epoca, a parte le superstizioni, che uno ci poteva credere o no, però all'epoca, insomma, dopo un incidente, trovare un pilota con una scarpa sì e una scarpa no era significato e sintomo di morte. Perché? Perché Ascari morì con una scarpa sì e una scarpa no, Eugenio morì con una scarpa sì e una scarpa no e Luigi Musso nel 1958 morirà con una scarpa sì e una no. All'epoca questo significava la morte e Eugenio infatti morì, morì proprio a Modena durante quei test. E la cosa assurda è che Deglia quella sera, ovviamente ricevete la notizia, andò comunque in scena, aveva uno spettacolo, andò in scena e questo è assurdo perché lui lasciò la sera del 13 marzo, rilasciò questa fotografia di Eugenio, lasciò questa fotografia di lui, di se stesso e Fangio, con scritto dietro, Fangio è campione del mondo, io voglio essere il tuo. Non ci riuscirà, ovviamente. La madre organizzerà poi tutti i funerali e tutto e all'interno della casa della madre ci sarà un quadro, insomma, una foto di Eugenio con la dedica di Eugenio che gli aveva fatto una volta, che ha scritto mamma non ti preoccupare, non avere paura, che tornerò. In realtà lui non tornerà più. E vi ricordo che la madre, l'ultimo ricordo che ebbe del figlio, era quella famosa litigata anche chiusa in maniera davvero quasi malsana e con grande sofferenza da parte di entrambi. E Eugenio forse si era lasciato morire, dico forse, per porre fine a tutto questo. Era un uomo dall'estrema quasi finta sicurezza, che si era lasciato accarezzare da quell'amore improvviso che lo aveva travolto completamente. La luce rappresentata da Delia da una parte e l'oscurità quasi, lasciatemi passare il termine così, della madre, che lo aveva messo all'angolo e gli aveva detto ora scegli. Però Eugenio non era pronto a scegliere. Tra l'altro neanche Enzo Ferrari riuscì a fare cambiare idea alla madre. Forse Eugenio non riuscì a gestire tutto questo perché era troppo grande per lui. Forse l'inquietudine, il tormento lo avevano portato a quell'errore fatale. E la storia di Eugenio a me ha colpito tanto, non so se ha colpito anche voi, perché è proprio un mix di vita, oltre alla pista, che si interseca, si interfacciano una con l'altra nel bene o nel male. Ed è una figura molto importante dagli anni 50. Eugenio, tutto quello che lui ha fatto, che ha fatto in Formula 1, nelle mille miglia. Questo è la storia di Castellotti. Fatemi sapere nei commenti se la conoscevate, cosa vi ha colpito, quale passaggio della sua vita vi ha colpito di più. Io vi aspetto nella prossima settimana, con un nuovo video, sempre qui sul canale. Se volete lasciare un mi piace, commentate qui sotto che vi leggo nei commenti, iscrivetevi, fate tutto quello che volete, perché qua si vive sempre di Formula 1. Ora abbiamo, vi ho portato nel passato e la prossima settimana affronteremo qualche argomento del presente. E allora io vi aspetto qui e su tutti i miei social, sempre con Formula 1 with Carolina. Vi mando un bacio e spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao!